buon ciao a you benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in compagnia del buon tony che ci ha fatto risorgere vanguard tony per chi è follower del nostro canale è colui che ci ha fatto vedere tutto il mondo di vanguard un video che sale di bisognoso si è il video della storia diciamo dei set dei vari set si va proprio il video più grosso della del mio canale uno dei più grossi insieme a pokemon si insieme a pokemon è un altro di yuki o con le dovute visualizzazioni dovute vi piace possiamo anche pensare a fare il nuovo cv t1 al cv di 17 e soprattutto con i nuovi mazzetti io oggi siamo con mamma mia mondi altrove è la cosa figa che si chiama buste dei mondi è una storia di magic dove a questo giro ci ha regalato assassin script una delle più grandi saghe videoludiche un passo nella storia un salto nella leggenda emerge dall'ombra per unirsi a magic corsi acrobatiche in luoghi antichi con i tuoi assassini preferiti da alta irradezio a evo tu conosci si faccio pure un po non gli ho giocati proprio tutti salve siamo facendo un piccolo sbussing veloce già fra siamo facendo un piccolo sbussing doveva partecipare guarda che cosa è uscito il la collaborazione volevo il mazzo meno la collaborazione con l'assassin cristo il bello della di voi sbussarsi si è cosa tipo 23 1 8 2 maggi così puoi trovare levati il casco a ok ok sono un attivo passata a salutare non tutti sanno che questa questa cartolina qui oltre ad essere per chi la vuole conservare o meno la può anche mettere qui in modo tale cosa tbc anche sarebbe male e lo so peccato che non allora distrarre bomba fumogena c'è colmo e poi boh 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 la nuova terra isolotto fiammeggiante oltre ad essere una pelando ci fa pure pescare una carta e adesso bellissimo gli assassini specifici si a the wild questo qui dovrebbe c'è pure ha ballato la bandiera privata ma ti ha scritto qualcuno a te no sto aspettando che devo incontrare trovato assassino due persone per ma tu cugini no quello devo chiamare io domani e poi ho trovato belli sicuramente sarebbero i personaggi diciamo gli assassini che fanno parte diciamo della uno dei miei clienti che oggi è venuto a conversare i pazzi magic ezio ciao ezio sicuramente si trova dove il video ezio 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 greggio si può dire uno dei migliori assassini della saga videoludica e non trovare che tonno però si è uno dei migliori ma se c'è al taire io sono a settimo c'è sì se pure lui l'avevo nominato prima a 4 di ezio bello ovviamente ci doveva essere forza omicidio e sono le art figure ne sono venti che carini anche io ho trovato una collezionata qui adesso vedi a lui ci può dare una mano ad esempio questa qui che è quello di mirage giusto se questo è l'ultimo assassino che ad ottobre che detto che è belle le terre no e quando questa qui viene direttamente da assassin's creed come si chiama l'alala assassin's creed odyssey odyssey a me l'animus di no l'animus punto e poi mi riuscite eivor questo è cattivo eivor questo qui è l'assassino di assassin's creed valala ecco questo bellissimo e no questo è molto detto i doppioni come cosa no io le colleziono queste altre figure bella shaojun excalibur vabbè plagio quindi c'è c'è un mazzo giocabile qui si trovano i massi già fatti stiamo lo santo il donario stiamo trovando questa è la la carta diciamo le illustrazioni bellissima la spada di abbondanza e carestia è una ford alexios è una ford non è una ford nera bellissimo la spada di abbondanza e carestia fighissimo e poi posso dire come tutti gli assassini hanno in dotazione la lama c'è la lama c'è artefatto e poi chi è lui roshan lui è uno dei protagonisti eivor si ricordi no come si chiama il protagonista ezio altair ezio poi non mi ricordo quello del 304 adesso mi linciano nel viso arlo d'orealte gomendini linciano questo qui no questo qui è quello ispirato alla rivoluzione francese di sindicati sindicata in inghilterra roo ma quant'è sono quant'è sono unity quant'è sono di assassin's creed tanti 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 alexio arriva e anche ho trovato vedere bakeri bayek di si vuole bayek di assassin's creed origins altair bellissima pianura a questo non sapevo che esistesse la lama celata stivale questa qui fa parte di assassin's creed china dovrebbe essere una visita poi no non diciamo che c'è non per per dire che si chiama proprio così dovrebbe chiamarsi proprio così bellissimo spettacolo foil a si trovato arba smir spettacolo poi beh io adesso non so ma la firma si si è la firma dell'autore luisa presler si è tutte le carte possono uscire una o due filmate ho capito io comunque ho trovato questo l'avevamo già trovato ho trovato la mila dell'eden gli assassin's creed 1 diciamo diciamo non è lo stesso eivor eivor si chiama anche per il personaggio femminile di valala quindi diciamo dovrebbero essere ricordate quello è il fosciaio forma deve essere cattivo dei primi 45 sature un altro al basso mio bayek di siua troviamo anche in questa che figo del mondo sembra sembra una persona reale no è una persona reale perché devi sapere che assassin's creed scusa mi sa devi sapere che assassin's creed tutto quello che tu giochi nel passato è frutto dei ricordi dell'animus ok in cui questi per questi diciamo queste persone si mettono dentro che vogliono ricordi degli antenati esatto e devono avere però di fianco degli oggetti appartenuti a questi diciamo a questi chiamavano di farlo quartier generale della confraternita trofeo dell'assassino trovata anche poi ecco abbiamo preso questo qua frigo al 4 proprio una bellissima valute con lo smigol l'info è di di fai un altro frigo a farlo sta facendo confusione un altro colmac un altro animus una nave che va eppure un cavallo phobos la protagonista di ssi speell china e poi dove si fa il balzo della fide il pagliaio foil. Un guanto dell'assassino e questa è la macerata, chissà se c'è già quello squartato. Questa è di Ezio, non è di Altair. C'è ancora il dito attaccato. Che bello! Ricostruire la storia. Questa era la macerata di Ezio. Lui chi è con l'uccello? Senu. E lui, sì, è praticamente il famiglio, si può dire, di Bayek che lo segue dall'alto. E poi di nuovo Ezio. Bellissimo, affermato pure, di Alex Negrea. E poi Alexios. Forte terminale. Questa è figa. Ah beh, Magic, le arte di Magic. Tanto devo spussare un po'. Un altro Ezio però in questa volta foil. Cosa perché? E' il Cormac foil. Ma di... io non ne sto a vedere, ma di mitica ne abbiamo sbussate. Sì, sì, sì. Vedi, questa è mitica. Yalimuccio, la sfera, quella lì. Ah, la mela dell'Aden, è la mitica. Sì, ho messo a corto. La spada pure mitica. E' di nuovo una. Quella mitica, qua, vedi. Ah, ok. Yalimuccio. Ciò che deve essere fatto. Poi sicuramente ci saranno, che io adesso non me ne intendo dal gioco in sé, quindi penso ci saranno carte abbastanza forti. Eh sì. E' una mini mini espansione. Pensa che sono... Shoujun. Dovrebbero essere poche carte, alla fine. Palude, che viene da Syndicate. Ah, sono missi, quelle terre sono. Teschio di cristallo. Bellissimo terminale. Spettacolo. Io lo vedo l'ora comunque perché c'è Magic. Eh, Magic, Marvel. Final Fantasy nemmeno mi ispira, perché purtroppo io di... l'unica che mi può far impazzire è Metal Gear. L'unica che mi fa impazzire, ma forse perché... Laila. So Boomer. Un altro personale. Final Fantasy non sarebbe male. L'abstergo. Eh, a Natale vuoi uscire. Di tanto mi voglio appropriare di questo. Marvel esce a Natale? No, no, Final Fantasy. Ah, Final Fantasy. Esce l'anno prossimo. Oh, Marvel. Marce sì. L'arma gelata firmata da... Co. Vesti della confraternita, poi si tratta di Ezio. Sì, Ezio. Ezio. Rosso bianco. Chissà se è Excalibur. Ne abbiamo trovati tantissimi, ne abbiamo trovati. Questa me la dà. È classica, l'hai trovata firmata questa. Ok. Eh, ecco. Vabbè. Tanto mi è uscito un altro. Eh, no, perché le firmate sono da parte. Sì, no, 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 sono già uscite. No, io te l'ho incontrata con la collezione normale per le collezioni delle firmate. Eh sì, una parte. Sì. No, me l'hai firmata impossibile però. Cleopatra. Bellissima Cleopatra. Quella è la più bella miticozza. Questa è bella. Pure. Io ho finito. Jack Trow, bomba fumogena. Vabbia, bello smussing, bella espansione, belle carte. Sean e Rebecca. Bellissima. Abbiamo cacciato. Sia una bella coppiata che Cleopatra, cavolo. Detto questo, raga, vi invito a seguirle pure tutti gli altri video perché smusseremo altro, insomma, tutto di molto croccante. Ci vediamo al prossimo video. Bella Why You.